Hacker russi minacciano l'Italia, domattina vi colpiremo. Oppure ancora, gli hacker russi minacciano attacco all'Italia, danni irreparabili. Che sta succedendo? Siamo veramente nei guai? Come queste testate dicono? O c'è dietro qualcos'altro? Oggi parliamo proprio di questo, di questi fatti di cronaca attuali, attualissimi. Cosa è successo? Perché? E che lezioni ci portiamo a casa da tutta questa vicenda? Per parlare di ciò, oggi ho chiamato un esperto di sicurezza. Diamo il benvenuto a Andrea, del canale di Reverse Security. Ciao Moreno, ciao a tutti. Com'è partito tutto quanto? Perché adesso gli hacker russi ci minacciano? Allora, tutto è partito dall'Eurovision. Nel senso che la polizia di Stato ha annunciato di aver sventato a un certo punto degli attacchi. L'attribuzione di questi attacchi è stata fatta a un gruppo di hacker russi, di hacker pro-Russia, pro-governo russo, dal nome Killnet, che ha subito risposto guardate che non vi abbiamo attaccato perché se vi avessimo attaccato sareste sicuramente cadu, cioè sareste distrutti in ginocchio. Cioè loro hanno detto, no è impossibile che avviate sventato dei nostri attacchi perché i nostri attacchi non li sventate, cioè sareste... Non li sventa nessuno perché noi siamo... Anzi, sapete cosa? Visto che avete detto sta bagianata, adesso vi attacchiamo sul serio così ve ne accorgete. Esatto, esatto, è proprio quello che hanno fatto. Cioè nel senso, da quel punto hanno detto, va bene, adesso vi attaccheremo sul serio così vi faremo vedere la potenza dei nostri attacchi. E hanno stilato una lista di target che insomma erano siti istituzionali italiani, tipo il sito della polizia di stato, il sito del ministero degli esteri, del ministero degli interni, eccetera. Ne approfitto per farti una domanda così a bruciapelo, ma che senso ha da parte loro di annunciare un attacco prima di farlo? Cioè se tu annunci, guardati, domani ti attacco alle 15, cioè io generalmente alzo il livello di allerta, non è che rimango così, ah ok allora... Sì, sì, è anche un modus operandi di alcuni gruppi di attivisti. Sono stato consulente di Eni per qualche anno e c'era Anonymous Italia che aveva lanciato Operation Green Right. Hanno minacciato Eni dicendo ok, voi state inquinando, vi attaccheremo perché siete brutti e cattivi. E hanno detto proprio così, il tal giorno, alla tal ora, vi attaccheremo con tutte le nostre forze. E Eni cosa ha fatto? Si è preparata, quindi servizi giustamente. Si può essere d'accordo meno con le motivazioni, però quello chi se ne frega. Ha alzato il livello di allerta, ha preso servizi anti-denaro service ad esempio, e quindi non è successo niente. Scusa ma io sono sempre più confuso, ma c'è la furbizia di questi gruppi dove sta se ti devo annunciare che ti attacco così tu ti prepari? In questo specifico caso, che senso aveva? Cioè dire, no, non vi abbiamo attaccato davvero, allora adesso vi attacchiamo sul serio così vedete, così così hanno sfizio. Diciamo che in questo caso specifico pare che ci sia più un motivo di orgoglio dietro. A fare attacco verso l'Earovision, l'e-voting, eccetera, sembra sia stato questa costola, questo sottogruppo di Killnet che si chiama Legion, che ha agito per i fatti suoi, cioè nel senso ha agito per conto suo. È stato attribuito a tutto il gruppo un attacco che è sventato dalla polizia italiana, cosa che gli ha fatto rosicare. Stanno rosicando, cioè stanno rosicando perché è una loro costola, ha agito indipendentemente, ha detto vi attaccheremo l'Eurovision, ha fallito. Sembrerebbe così, almeno a giudicare dalle conversazioni sembrerebbe così poi. Ma poi alla fine, cioè, com'è andata a finire? Sono riusciti? Sì, allora, cioè, hanno detto, ok, adesso facciamo sul serio e lì si è scatenato il delirio mediatico perché hanno fatto questi attacchi volumetrici e il sito della polizia di stato è stato giù per due ore, una cosa del genere. E lì c'è stato il putiferio, cioè questa cosa è stata ingrandita, esagerata a tal punto che sembra quasi che Killnet abbia reagito, con un attacco smisurato nei confronti dell'Italia. Cioè, tu mi stai dicendo che hanno preso qualche migliaio di computer, tutti simultaneamente contro questi siti istituzionali, causando un sovraccarico e quindi mandando i siti offline. La semplificazione vuole che si chiamino attacchi denial of service. Tecnicamente parlando, il denial of service è una conseguenza di un attacco volumetrico o no? Ovviamente non ci vuole nessun tipo di competenza specifica per fare un attacco volumetrico ormai, nel senso che chiunque può farlo, veramente chiunque. Cioè, si affitta una botnet, pochi dollari al mese in bitcoin, fanno in bitcoin, e ho un pannello di controllo dove metto il target e schiaccio attacca. Cioè, mi stai dicendo che pure io posso mandare giù il sito del ministero con 5 euro, tipo? Tipicamente va dai 20 dollari ai 100 dollari, qualcosa del genere, insomma. Veramente è una cosa da portata di tutti. La cosa che fa sorridere è che, guarda caso, cioè, ad esempio, i siti istituzionali sono stati giù due ore, e il gruppo ha detto, eh, questa era una dimostrazione. Vi abbiamo tenuto giù per questo periodo di tempo perché è una dimostrazione. Però se vai a analizzare i servizi di booter e stresser, il modello di business, è che te lo affittano, quella cosa lì te lo affittano per un tot di ore. Cioè, non è che tu dici, vabbè, faccio un attacco che dura 8 giorni, no? Verrebbe da pensare che abbiano usato dei computer in affitto, sostanzialmente, che potrei comprare io, potresti comprare tu. Ma, per adesso, per adesso sì. Noi speculiamo, però, oggettivamente. Per adesso sì. Per adesso, magari quando esce questo video, in realtà... Esatto, hanno le mail di Draghi nel comodino, nell'hard disk. Ma poi alla fine come si è conclusa sta cosa? Hanno minacciato lo XIRT, fallito miseramente, cioè non è stato giù neanche, tipo, un minuto, probabilmente, e dopo di che si sono complimentati con loro, cioè c'è stato questo messaggio su Telegram in cui si complimentavano e dicevano, ah, bravissimi, il governo dovrebbe alzarvi lo stipendio o qualcosa del genere. Quindi si sono complimentati con i tecnici dello XIRT, che, vabbè, insomma, credo gli abbia fatto piacere, gli abbiano fatto piacere i complimenti, però è un po' strana come... Cioè, l'analogia è un po' come se io, cioè, mi stai su, provo a tirarti una pizza in faccia, tu ti schivi appena appena, ti disposti appena un attimo, io inciampo, casco e rotolo per terra, mi rialzo, mi ricompongo e ti stringo la mano. Esatto, e ti faccio i complimenti per il tuo karate, tipo, non so, qualcosa del genere. Sì, più o meno è andato così, però è andato così. Che lezioni ci portiamo a casa da questa cosa, questa storia? Secondo me i media, i giornali, i giornalisti, non tutti, ci sono casi di eccellenza, come ad esempio abbiamo noi in Italia, tipo, Guerre di Rete, Carola, eccetera, che fanno un lavoro incredibile dal punto di vista della cronaca cyber. Altri invece che gridano subito al sensazionalismo, capisco che dire Russia attacca, ha che Russia attacca un'Italia, faccia vendere un botto, e son contento per loro, però a volte bisogna anche saper ridimensionare le cose, ecco. Alla fine stiamo parlando di un gruppetto che ha tenuto giù due ore un sitarello e la notizia è uscita su tutti i giornali, su tutti i telegiornali, e ne stiamo parlando ancora adesso, quindi... C'è un po' una psicosi, no? Con questa cosa, già c'è il mito dell'hacker russo, ci sono le tensioni internazionali, la psicosi è facilissima, diciamo che bisognerebbe un attimo ridimensionare i toni, magari. Bisognerebbe anche avere un po' più di voglia di comprendere alcuni tecnicismi che ci sono dietro, e sapere riconoscere la criticità degli eventi, perché purtroppo per fare giornalismo in quell'ambito lì bisogna un pochino metterci il naso, un pochino, sì. Allora Andrea, grazie mille per essere stato nostro ospite. Grazie a voi, grazie mille. E ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.